Ok boss, qual'è il plan? Fin's family has a repair shop in Midtown She used to do all of her work there If I'm lucky, she still does Wouldn't it be easier to just call her and talk? I don't think so man Seeing her on the bridge I don't know that person I need to figure out why she's doing all this Alright man, do what you feel is right Keep me posted Benvenuti ragazzi, sono Sardaf52 E oggi continueremo la nostra avventura su Marvel Spider-Man Miles Morales Bentornati in quel di New York Nello scorso episodio abbiamo scoperto di avere un nuovo superpotere E cioè l'invisibilità Abbiamo quasi salvato il ponte Beh in realtà l'abbiamo salvato però prima l'abbiamo distrutto Anche se non è proprio colpa nostra Comunque tutto quello che è successo ci ha fatto portare alla distruzione del ponte Comunque detto questo In questo momento stiamo andando Dove dovrebbe essere Fin? Non ho ben capito Certo ho letto E quindi la famiglia dovrebbe avere questo posto Va bene E quindi dovrebbe essere qui Però è abbandonato da quello che vedo Quindi forse non ci sarà O forse troveremo qualcosa di interessante Perché è di storia E quindi Ovviamente ho evitato di dire che nello scorso episodio abbiamo scoperto che Fin è Tinkerer Il nome della persona che dovrebbe essere a capo dell'Underground Che ci è stato rivelato da nostro zio Lo voglio ricordare Oltre questo L'Underground proprio sempre nello scorso episodio ci ha attaccato Mentre la madre di Miles sta facendo il suo comizio La madre di Miles sta bene Si è solo fatta male a un braccio È andata all'ospedale Ma niente di che Noi invece non siamo andati via Anzi abbiamo cercato di sconfiggere tutti i vizi dell'Underground Ci siamo riusciti? Direi di sì Dai Beh anche perché se no non potevamo andare avanti Detto questo adesso siamo qui proprio per questo motivo Perché nello scorso episodio come detto abbiamo scoperto che Fin è Tinkerer E quindi dobbiamo scoprire qual è il suo obiettivo Cosa vuole fare Perché ha rubato il Nuform Lo ha rubato per scoprire cosa fa nel dettaglio Oppure lo ha rubato perché lo vuole utilizzare per altri scopi Da quello che ho visto e da come ha reagito Quando Spider-Man e noi stavamo cercando di prendere l'Uform che aveva preso Secondo me in realtà lo vuole più studiare che utilizzare per dei suoi scopi Ovviamente tutto quello che ha fatto per prendere il Nuform Non era nei migliori dei modi Poteva studiarsela meglio invece di distruggere un bond intero Ecco sicuramente è così Oppure attaccare il comizio che era un attacco inutile Come detto sempre anche nello scorso episodio Bene Detto questo stiamo scoprendo un paio di cose Nel frattempo che Miles faceva tutte Ah e continua a fare tutte le sue Spiegazioni Bene Il modo migliore in cui lo sono riuscito a spiegare io Ma sto parlando anche se Dovremmo prestare attenzione però vabbè Non credo ci sia qualcosa di interessante Questo muro si può rompere Assolutamente Ecco il gioco mi ha dato pure una carica elettrica Quindi devo fare così A posto Era abbastanza facile E quindi se c'è una stanza segreta Ha dei segreti Quindi dobbiamo scoprire i suoi segreti Sempre nello scorso episodio tra l'altro Ci siamo incontrati con Finn come amica in questo caso E abbiamo scoperto una capsula del tempo Che poi ha dato a un sacco di cose secondarie da prendere Saranno tutte capsule del tempo Non so se ve le farò vedere Più sì che no Però poi deciderò più avanti E come abbiamo visto Perché mai Finn dovrebbe avere gli occhiali di Rick? Potrebbe averli cambiati E averli dati a lei E conservarli Lei ma Più strano che normale così Quindi Nello scorso episodio L'abbiamo visto Rick In un flashback Stavamo ipotizzando Fosse successo qualcosa Io ho un po' esagerato Pensando fosse morto Ma forse Non è così tanto Comunque c'era una spia dietro il computer Quindi qualcuno arriverà Mentre guardiamo qui Cosa mia squadra è morta Ma Krieger Ma ancora vuole fare un nuovo form E abbiamo bisogno di fare questo oggi Let me Tu è sicuro che siamo pronti? Dobbiamo essere Sì Torni in Harlem Today Out of schedule Poisoning the city To make a buck They keep cutting corners Ignoring safety reports I can't Let them pervert My work like this Finn Okay First we flush the core Then we wipe all data You're sure They can't just make more Of this stuff? No No As long as we take out The backup supply In Jersey too But without me non hanno capito come funziona il progetto sarà D.O.A io ci riporto ci sono cose che succedono il video si lanciano all'interno perfetto sono pronti salvare New York? pronti c'è un secondo video oh dammit no upload phone must have been damaged I won't let tonight be for nothing I promise Rick they were trying to shut the new form project down but something went wrong last known location of her phone if I can track it come on come on e per la prima volta nella nostra partita possiamo utilizzare l'invisibilità anche in combattimento una cosa molto potente in realtà perchè possiamo fuggire da oh oh sto diventando normale ok qua tecnicamente non dovrebbero vedermi perfetto detto questo abbiamo scoperto un paio di cose adesso posso confermarvelo Rick è morto purtroppo dopo quello che abbiamo visto non ce l'hanno ancora detto davvero però è così non ci sono altre alternative anche per come era fin nel secondo video detto questo stavano cercando stanno cercando di prendere più stavano ma adesso fin sta comunque cercava di prendere il new form per liberare la città ma questo l'avevo capito già prima e in realtà basta perchè si alla fine siamo riusciti a collegare tutto in base a quello che avevamo visto finora ehm quindi non c'è stato nulla di così ehm esaltante da quel punto di vista solamente la conferma che ovviamente Simon Krieger è un cattivo ma chissà perchè forse lo sapevo già ehm era abbastanza ovvio scontatissimo ehm dalla prima volta che l'ho visto ma soprattutto ehm ricordiamoci perchè voglio ricordarvelo nel primo episodio noi abbiamo lasciato Rhyno nelle mani di Simon Krieger e lui ha detto che chiamava la polizia ma se è un cattivo chiamerà mai la polizia? ok in questo gioco torneremo ad affrontare Rhyno perfetto l'ho appena appuntato sul mio diario ehm ok ehm non che mi dispiaccia eh però mh un po' scemo in questo caso Peter perchè è stata o manco un po' colpa sua in quel caso perchè Peter ha detto ma si chiamerà la polizia lui non lo conosci mh non puoi lasciare una persona come Rhyno nelle mani di qualcuno che non conosci che ti dice ma si chiamo la polizia che nel puro caso in cui Rhyno si fosse svegliato è la città di nuovo nel panico e dovevi ehm intervenire un'altra volta quindi no assolutamente no qui Peter ha sbagliato però ormai è successo ehm segnatelo comunque andremo di nuovo ad affrontare Rhyno in questo gioco nei prossimi episodi questo è sicuro detto questo il combattimento con ehm l'invisibilità molto più facile molto più no molto più bello non lo so però simpatico comunque è una meccanica che in questo momento la sto utilizzando perché l'abbiamo appena sbloccato ehm e quindi va benissimo ehm in futuro può darsi che la utilizzeremo di meno ma ci tornerà utile nel qual caso stiamo per essere scoperti e quindi diventiamo invisibili e non ci facciamo vedere in quel caso sicuramente diventerà utile ora pensavo che l'ologramma riuscisse a battere questi due tizi invece non ce l'ha fatta allora ci pensiamo noi ehm e quindi abbiamo finito già in realtà vabbè manca solamente l'ultimo ehm stiamo perdendo un po' più di tempo non fa niente più o meno vabbè sì comunque eh sì manca solo quello no vabbè allora posso pure anzi sconfiggerlo senza ehm stealth ecco ok non mi veniva perché tanto era l'ultimo eh poi se c'era un eh trofeo sconfiggi tutto il gioco in stealth difficile eh però oh oh eh questo è prowler no? dovrebbe essere lui comunque Miles ha detto che vuole scoprire cos'è successo a Rick noi lo sappiamo già è morto ehm però in realtà effettivamente non sappiamo come quindi sì anche noi vogliamo scoprire cosa è successo che trovano cosa in Finn's shop? ehm 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 finalmente ho la conferma di che parentela con Finn quindi il fratello di Finn ehm ehm e quindi sì ehm 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 così da non poterlo ricreare più non ci sono riusciti o meglio Finn ci sta ancora provando Rick nel tentativo mi sa che è stato scoperto qualcosa del genere ecco perché forse dobbiamo scoprire ehm cosa è successo quindi questo è un palazzo della Roxxon c'era il logo enorme quindi ehm è sicuramente qui che dobbiamo andare perché non mi fai entrare qua dentro gioco oh ok no mi hanno mi ha visto qualcuno eh vabbè ok combattiamo eh scusate io stavo cercando di entrare nel palazzo ehm non ci sono riuscito vabbè ehm potrei utilizzare il Venom il potere Venom però non fa niente eh così un po' troppo facile no? prendiamo a calci e a pugni questi agenti della Roxxon nel frattempo ci divertiamo un pochino in più ehm e poi il combattimento comunque ehm mi è sempre piaciuto anche nel primo Spider-Man qui bello è sempre fluido come nel primo nel secondo secondo me sarà ancora meglio ancora più uno spettacolo ma perché non riesco ad entrare? c'è qualche ah ma c'è una grata invisibile che era era abbastanza visibile in realtà quindi devo prima disattivarla ah ok adesso ci sono arrivato che peccato perché forse eh avrei potuto fare una cosa molto più simpatica cioè diventare invisibile e fare questa cosa da invisibile mentre c'erano gli agenti e poi andarmene senza combattere però non me ne sono accorto prima peccato ehm ok di nuovo nei condotti la prima volta in questa serie però nei condotti di Spider-Man ehm non Miles Morales ma il primo Spider-Man e basta non ha un nome si chiama solo Marvel Spider-Man quindi devo per forza dire il primo ehm e detto questo sì c'erano un sacco ehm di ehm missioni da fare mentre si stava nei condotti ed è bello il fatto che cammini ehm così proprio perché vabbè Spider-Man e quindi è così che deve fare ok quante strade tre bello ehm chiudiamole tutte e andiamo prima a destra perché è la prima che c'è e quindi vediamo dove porta questa se è quella giusta torniamo indietro vediamo se troviamo qualcosa di utile stiamo girando intorno a quanto pare sì perfetto ho posto una nulla l'altra di conseguenza la terza sarà la strada giusta mmm più facile di così Miles ha fatto una battuta più bella della mia non che ci vuole molto eh questo è sicuro la mia in realtà non era nemmeno una battuta ehm no ok queste cose a me che sono la semplicità no? soprattutto in un gioco come questo dove c'è Spider-Man però a me piace un sacco questa cosa ehm ok cerchio per non ho premuto cerchio va bene non fa niente andiamo avanti ehm non sono morto no tra l'altro può tranquillamente vabbè ehm perfetto la sopra oh queste cose a me cioè è così semplice camminare su un muro ehm perché è Spider-Man ecco ok e posso scendere mentre sto sulla ragnatela no vabbè cioè boh questa cosa è di una semplicità unica beh nei film soprattutto di Spider-Man succede praticamente sempre però qua ok bellissimo ecco come questa cosa ancora per non farmi vedere sono diventato invisibile non attacco nessuno perché se attacco qualcuno mi scoprono e quindi me ne vado avanti me ne vado avanti bellissimo mi scoprono mi scoprono è il tuo padre ok ma facciamo questo il mio modo ho un paese dove posso accettare un terminal di sicurezza per farvi sapere cosa è venuto le nostre 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 ragazzi sono il salaterv del futuro più futuro che non possa esistere perché in questo momento è 2024 addirittura aprile perché riguardando un po' questa serie e prima di caricarla su youtube questo video era troppo lungo quindi ho deciso di tagliarlo in questo momento e quindi dovrò salutarvi io vi ringrazio per la visione vi saluto vi saluto vi saluto vi saluto vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati ai miei contenuti di lasciare un like se vi è piaciuto di commentare e condividere con tutti i vostri amici e se volete in descrizione c'è il link per il mio instagram per seguirmi e noi ci sentiamo al prossimo video dove ci sarà il salaterv del futuro che farà tutte le concetture sullo zio di miles che è prowler vi ricordo Grazie a tutti